Sono circa 600 i centri di assistenza tecnica in Mergas in Italia, la rete si estenderà capillarmente anche all'estero su un modello ormai consolidato, quello che lega spesso da molti, moltissimi anni il centro di assistenza tecnica alla casa madre, alla Inmergas, un rapporto basato sul reciproco convincimento che insieme si può crescere. Inmergas, buongiorno. Inmergas è sempre stata un po' all'avanguardia dal punto di vista di nuove tecnologie, nuove risorse che va oltre la classica caldaia a gas. Anche noi cerchiamo di stare al passo coi tempi, da questo punto di vista cerchiamo di dare un sistema integrato, prodotto e servizio che sia valido per soddisfare il cliente. Inmergas, buongiorno. Fondamentale il rapporto sia tecnico che professionale che anche organizzativo tra Inmergas e il centro di assistenza risulta essere strategico più che fondamentale. 8876193. Inmergas è stata probabilmente la prima azienda del settore a credere così in modo forte al rapporto con i propri centri di assistenza ed ormai è diventato un modello anche per i nostri concorrenti la creazione di una propria famiglia. Quindi oltre a competenze tecniche, competenze professionali, si crea un rapporto familiare, si è creato un vero e proprio rapporto familiare che porta a identificare queste persone sul territorio con la nostra maglia, con il nostro marchio. La formula è quella del confronto diretto, faccia a faccia, perché forse è solo così che si cresce insieme. Sì, è un incontro, questo che è diventato oramai un incontro istituzionale da parte di Inmergas assieme ai più rappresentativi centri di assistenza che svolgono il proprio lavoro sul territorio italiano e portano la loro realtà in azienda. Una rete molto organizzata, un sistema formativo. Certamente ci sono i corsi di aggiornamento, quelli con cadenza lungo tutto l'arco dell'anno, ma poi ci può essere. Il problema immediato da risolvere subito allora? Allora abbiamo un call center, abbiamo circa 10 tecnici che tutti i giorni rispondono al telefono con un'anno dedicata ai nostri centri di assistenza. Oltre a questo abbiamo anche un portale sempre aggiornato con tutta la documentazione disponibile per loro e attraverso il quale loro possono costantemente richiedere sia documentazione che dati che gli servono poi fuori per sopperire ad eventuali problemi. Con circa 5.000 codici da gestire quotidianamente, una rete di 600 centri di assistenza tecnica in Italia, il ruolo dell'automazione e l'investimento in automazione in questo magazzino è per dialogare costantemente? Certo, questo ci permette di consegnare in 24 ore i ricambi nel momento dell'ordine. Viene fatto l'ordine il mattino, il giorno dopo è dal centro assistenza, quindi permette di dare un servizio velocissimo che permette di fare le riparazioni in tempo quasi reale. Grazie a tutti!